Nessuna opera di pulizia del canneto è stata avviata dal comune di Scicli lungo la litoranea che collega Donna Lucata Cavadali che era stato l'assessore Lino Carpino ad anticipare i lavori certificando una data che però non è stata mantenuta. Rapina a mano armata ha arrestato Riccardo Iacono, un uomo di Lentini. E quanto è stato portato a termine dalla polizia a seguito delle immagini di video, sorveglianza. Oltre 5 milioni di euro per l'aeroporto Pio la torre di Comiso, la dare la notizia e Orazio Ragusa deputato all'Assemblea regionale siciliana. Ragusa il consiglio comunale lavora e come infatti sono stati portati avanti numerosi progetti per quanto riguarda la vita politica dell'ente nella seduta di ieri al consiglio comunale. Nuova edizione del nostro telegiornale, benvenuti a tutti i nostri telespettatori, lo avete ascoltato dai titoli. In apertura parliamo del canneto di Donna Lucata tra il palo rosso e il palo bianco delle zone proprio della frazione riverasca di Scicli perché la nostra redazione la scorsa settimana aveva denunciato come i residenti fossero oramai esausti da questi canneti su strada che mettono a serio rischio oltretutto l'incolumità pubblica. Aveva preso impegno davanti le nostre telecamere l'assessore alle manutenzioni del comune di Scicli, Lino Carpino che aveva riferito già sono in corso gli interventi. Noi siamo andati sul posto, abbiamo fatto un sopralluogo, ora magari si è potuto confondere, ha potuto sbagliare l'assessore Lino Carpino, effettivamente non è stato fatto l'intervento preannunciato ai nostri microfoni. Oltretutto la situazione è andata lì peggiorando a causa dell'inciviltà dei cittadini, di questo non deve rispondere il comune ma la coscienza dei cittadini che hanno abbandonato dell'Eternit, dell'Amianto, proprio tra i canneti, a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Carmela Minarto. Quest'anno stiamo provvedendo proprio nell'immediato, penso che nelle prossime 48 ore verranno essere rimosse. Penso che il litorale sciclitano sia già pronto, dato parecchio tempo, per accogliere la massa dei turisti che fortunatamente vengono nelle nostre spiagge. Abbiamo voluto riproporvi la dichiarazione rilasciata ieri ai nostri microfoni dall'assessore del comune di Scicli, Lino Carpino, in cui annunciava l'avvio dell'opera di pulizia nella zona del Palo Bianco. Noi siamo andati sul posto e quello che abbiamo documentato con le nostre telecamere è una discarica a cielo aperto di rifiuti pericolosi nei pressi della spiaggia e di bonifica neanche a parlarne. I residenti di Via Giaratana chiedono da tempo interventi risolutivi. L'estirpazione del canneto deve essere effettuata con trattamenti specifici che impediscano al bulbo di riformare le piante, altrimenti il rischio è che tutto riprenda forma, rigogliosamente. Anche se in questo momento sarebbe importante riuscire ad ottenere l'opera di pulizia promessa a parole, ma di fatti manco a parlarne. Anche il prefetto Filippina Cocuzza, ieri nel corso di un incontro a Palazzo di Governo, ha sollecitato la pulizia dei cigli stradali dalle sterpaglie pericolosi perché è fonte di potenziale incendi. Ma l'assessore Carpino sembra al momento non raccogliere neanche la direttiva prefettizia. L'assessore del comune di Scicli, Lino Carpino, ieri ci aveva assicurato che la pulizia della Litorania, che collega Donna Lucata a Cavadaliga, era stata già avviata. Oggi siamo venuti qui, ma come potete vedere le canne sono più rigogliose che mai. Non abbiamo visto nessuno in questi giorni, speriamo che qualcuno arrivi perché qua non è che la situazione cambia, il pericolo c'è sempre. Adesso per esempio dobbiamo scaricare la macchina, siamo messi qua in mezzo alla strada, non potremmo rimanere, quindi non possiamo neanche parcheggiare di là dall'altra parte perché non abbiamo spazio per parcheggiare le macchine. Il vostro allarme, il grido d'allarme rimane inascoltato? Infatti, infatti. Ci promettono, sappiamo che dovrebbero provvedere, però in tanti giorni passano, è passato il mese di luglio. Speriamo, siamo speranzosi. Storia diversa invece per quanto riguarda San Pieri, perché a San Pieri sono arrivate delle risposte, non sono arrivate dal comune di Scicli, ma sono arrivate dal libero consorzio comunale di Ragusa e soprattutto dalla forestale, che era l'ente che aveva competenza per quanto riguarda la rimozione della duna, perché la forestale doveva occuparsi della manutenzione ordinaria di quel tratto. In questo caso è stata posta un'azione straordinaria, così concertata dal libero consorzio comunale di Ragusa, per intenderci l'ex provincia regionale, e dall'altra dalla forestale. Sinatra e Arca di Pane, infatti, hanno provveduto a mandare degli uomini. La duna finalmente è stata rimossa. Libero consorzio comunale di Ragusa e forestale hanno rimosso la duna dalla pista ciclabile di San Pieri. Un intervento congiunto, sottolineano i due enti, una collaborazione fatta da una concertazione lampo. Dal confronto tra Arca di Pane della forestale e Sinatra del libero consorzio comunale, è stata concordata la risoluzione del problema che ha visto gli uomini della forestale e della provinciale cooperare su un'ampia area, in quanto è stata anche scerbata dalla vegetazione morta e pericolante l'intera area interessata. Il caso della duna era stato denunciato da questa redazione già a giugno, ma negli ultimi giorni il caso era tornato alla ribalta a seguito della denuncia di Graziana Stracquadani. Quest'ultima aveva contattato la nostra redazione per denunciare come non sia stata rispettata la dignità del marito, diversamente abile che a causa della duna non poteva muoversi per la pista ciclabile. Il comune di Scicli aveva provveduto ad installare una passerella per facilitare l'accesso dal villaggio trippatore alla pista. L'assessore Carpino prima aveva detto che l'intervento era programmato in riferimento alla rimozione della duna, poi successivamente ma contestualmente aveva evidenziato che comunque ci sarebbe stata una conferenza di servizio tra gli enti competenti. Di quest'ultima non ne sapeva nulla né il sindaco di Scicli Enzo Giannone né il libero consorzio comunale di Ragusa né tantomeno la forestale. Comunque oramai il problema è risolto perché a parte conferenze, dichiarazioni eccetera, l'importante era questo, risolvere in poco tempo un problema che non avrebbe dovuto registrarsi, soprattutto fino quasi al mese di agosto. Cambiamo argomento, ci occupiamo di cronaca con la rapina mano armata. Sarebbero quattro le rapine da contestate. Poi a Riccardo Iacono, un 39enne di Lentini, il bottino delle rapine ammontava circa 39 mila euro. I dettagli. A volte indossava un cappellino per non farsi riconoscere dalle telecamere a circuito chiuso e munito di taglierino minacciava i cassieri per farsi consegnare il contante, intimando anche ai presenti di allontanarsi dai banconi. E poi, arraffato il denaro, si dava alla fuga per le vie circostanti. Arrestato dai carabinieri Riccardo Iacono, 39enne di Lentini, le indagini condotte dai militari dell'arma di Ragusa lo inchioderebbero come il rapinatore seriale di banca in trasferta. Gli episodi si sono registrati tutti nel 2016, tre a Ragusa e due a Siracusa. I colpi messi a segno nel territorio ebleo sono avvenuti nel periodo compreso tra il mese di maggio ed agosto di due anni fa. A Geratana, ai danni della Banca Agricola Popolare, nella città capoluogo gli istituti di credito visitati dal rapinatore sono stati Montepaschi Siena e Banca Carige. L'uomo sarebbe anche l'autore di una rapina commessa a Surtino, mentre a Canicattini Bagni il colpo non è andato a buon fine. I colpi messi a segno avrebbero fruttato oltre 38 mila euro. Decisivi per l'identificazione e gli accertamenti comparativi sui luoghi e sulla persona effettuate dal RIS di Messina. Sicuramente diverse attività tecniche, quindi parliamo di intercettazioni telefoniche ambientali, servizi di osservazione e pedinamento e l'acquisizione della videosorveglianza. Un elemento molto importante è stato fornito dai tecnici e gli specialisti del RIS di Messina che hanno effettuato una comparazione su luoghi e sulla persona e che hanno appunto consentito di raccogliere elementi fondanti per poi scaturire alla misura odierna. Non è escluso che ci possa essere anche un complice? No, non è escluso, stiamo ancora lavorando per cercare di identificare ulteriori soggetti. L'uomo pregiudicato per reati specifici al termine delle operazioni di rito è stato associato presso la casa circondariale di Augusta. I dettagli dell'operazione denominata Catter Taglierino sono stati resi noti stamane in un incontro con i giornalisti che si è svolto al comando provinciale alla presenza tra gli altri del procuratore capo Fabio Danna. È stata una bellissima operazione che ha visto impegnati sia i carabinieri di Ragusa, del nucleo operativo di Ragusa, sia quelli della compagnia di Agrigento, se non ricordo male, Canicattibagni, ma soprattutto ha visto impegnato il lavoro degli uomini del RIS, che sono riusciti attraverso una perizia antropomedica a riuscire a individuare il soggetto nel punto del signor Iacono, quale il soggetto che probabilmente ha commesso, anzi quasi sicuramente ha commesso le cinque rapine. La risposta che la compagnia Carabinieri di Ragusa e la procura di Ragusa hanno rassegnato oggi è di tutto rispetto perché riguarda casi che si sono verificati già un paio di anni fa e con pazienza, con professionalità e con l'aiuto anche della tecnologia i carabinieri sono riusciti a risolvere. Cambiamo argomento, continuiamo a parlare di cronaca, lasciamo l'operazione dei carabinieri e dunque non della polizia come precedentemente vi avevo comunicato, vi chiedo scusa, infatti l'operazione era dei carabinieri. Per parlare di un'altra operazione chiamata Araba Fenicia che ha portato all'arresto di 19 persone. Il servizio. E' stata denominata Araba Fenicia l'operazione di polizia che ha portato all'arresto di 19 soggetti. Le indagini hanno messo in luce che nel periodo che va almeno dal maggio del 2015 al maggio del 2017 vi era l'esistenza e l'operatività nei territori della zona sud della provincia siracusana compresi tra i comuni di Pachino e Portopallo di Capopassero di un'associazione mafiosa denominata Clan Giuliano, capeggiata proprio dal boss Salvatore Giuliano. Tutto si è concentrato proprio sulla figura del Giuliano e sui uomini di sua stretta fiducia Giuseppe Vizzini e i fratelli Giuseppe Giovanni e Claudio Aprile. Il clan si era caratterizzato per una veloce ascesa in grado di acquisire il monopolio nella produzione e nello smistamento dei prodotti ortofrutticoli. Inoltre il clan aveva stretto un non patto in ombra e ligeranza con la consorteria rivale dei Trigila e con il clan Cappello di Catania. Tutto sancito da un banchetto. Noi abbiamo alcune, ecco, la sede della Fenice, cioè questa società che è stata costituita per poter monopolizzare il mercato dei prodotti ortofrutticoli a Pachino e anche sede del quartiere generale dell'organizzazione. Si incontravano con altri clan per mettersi d'accordo, per scambiarsi i favori persino con il clan Cappello di Catania che aveva bisogno di indebolire una società che operava nel settore delle polizie facendo fare degli attentati a Pachino. Si mettevano d'accordo con il clan Limitrofo di Trigila per poter operare anche al di fuori del territorio e al tempo stesso organizzavano incontri conviviali con i produttori e i commercianti perché facevano una specie di ricognizione dei soggetti che si erano assoggettati al loro controllo, al loro condizionamento. Il sodalizio mafioso aveva dato vita a un'attività imprenditoriale della Fenice le cui quote sociali risultavano formalmente ripartite fra i figli dello stesso Giuliano e del Vizzini. Attraverso questa società si cercava di intimidire completamente il mercato ortofrutticolo di queste zone. Inoltre si occupavano di svariati settori commerciali come quelli legati ai parcheggi ma anche lì di balneari con estorsioni e poi c'era anche un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze studefacenti. Ancora la cronaca in primo piano. I familiari di Orazio Aurnia, 50 anni, modicano, deceduto all'ospedale civile di Ragusa il 29 luglio scorso hanno depositato un esposto alla procura di Ragusa per chiarire le cause del decesso e se sussistano responsabilità di terzi. La magistratura Iblea ha delegato i carabinieri della compagnia di Ragusa per sequestrare la cartella clinica e ascoltare i medici che lo hanno preso in cura. Stamattina è stata eseguita l'autopsia dal medico Cilia nominato dalla procura. Attualmente non c'è alcun nome nel registro degli indagati. Orazio Aurnia deve essere dimesso, doveva, scusate, doveva essere dimesso la mattina successiva al decesso sovraggiunto verosibilmente per un infarto fulminante. Domani mattina, dunque, saranno celebrati i funerali nella Basilica della Madonna delle Grazie di Modica. La DIA di Catania ha eseguito due decreti di sequestro beni emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania. Indebolire fino a stroncare l'egemonia sul territorio siracusano del country Gilala, la cui carriera criminale dei fratelli Antonio Giuseppe, detto Pintula e Gianfranco, e ricca di numerosi precedenti penali per associazione mafiosa, anche finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione e vendita illeciti di droga, riciclaggio e estorsione in danno di esercizi commerciali, omicidio, porto illegale di armi e furto. La Direzione Investigativa Antimafia di Catania, diretta dal dirigente Renato Panvino, ha eseguito due decreti di sequestro dei beni emessi dalla Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione su proposte avanzate dal direttore della DIA, Giuseppe Governale, in sinergia con Carmelo Zuccaro, procuratore e capo della Procura della Repubblica di Catania. I beni sequestrati, che hanno un valore di un milione di euro, sono un compegno aziendale di un'impresa individuale nel settore di bar e ristorazioni, un'impresa nel settore della fabbricazione di imballaggi in legno, quattro autoveicoli, un motoveicolo, cinque immobili, rapporti finanziari e disponibilità bancarie. Le indagini hanno evidenziato la spiccata pericolosità sociale dei Trigila, ma anche la consistente sproporzione tra i redditi dichiarati e gli arricchimenti patrimoniali del clan, evidentemente provenienti dall'attività delittuosa. Dei colloqui in carcere, intercorsi fra Antonio Giuseppe Trigila e i suoi familiari, captati nell'ambito delle attività investigative, è emerso l'interesse del capo clan nei confronti di un'impresa di fabbricazione di imballaggi in legno, impiegata dall'indotto nel mercato ortofrutticolo di Pachino. Il capo clan si è informato in merito agli affari economici dell'azienda e alle somme di denaro provenienti dall'attività svolta che dovrebbero entrare nelle casse dell'associazione. Infatti, successivamente, avendo fiudato l'affare, Antonio Giuseppe ha investito circa 350 milioni, secondo quanto è emerso nelle intercettazioni, per l'acquisto di un macchinario per le costruzioni delle cassette. Il titolare è Graziano Buonuora, genero del capo clan. Antonio Giuseppe, 67 anni, il capo indiscusso dell'omonimo clan Trigila mafioso della provincia di Siracusa, inserito nel piampio cartello mafioso con il clan diretto dal noto boss Sebastiano Nardo, legato al clan catanese Santa Paola. Un duro colpo era già stato inferto all'associazione il 26 settembre 2016, nell'ambito dell'operazione Ultimo Atto, con la quale la polizia retusera è stato, non si è di una bianca moglie del capo clan, il fratello Gianfranco, per associazione delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per la gestione diretta della stessa attività di spaccio aggravata dalla finalità mafiosa al fine di agevolare le attività del suo dalizio mafioso. Il clan oltre ad essere dedito alle tradizionali attività illecite delle istorsioni, dello smercio di stupefacenti e del gioco d'azzardo, gestiva altre attività legate alle risorse del territorio attraverso la fittizia e intestazione a terzi di immobili e società. Una vile aggressione, è stato prontamente fermato e arrestato dai carabinieri di Acireale, l'uomo che se ne era reso protagonista. Nuova aggressione a danno di medici, questa volta è successo all'ospedale di Acireale dove un medico è stato aggredito da un non paziente che lo ha colpito alla testa con delle forbici mentre era in servizio nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Acireale. A colpirlo più volte è stato un non paziente di 35 anni ricoverato da ieri per una contusione a una caviglia. Il medico è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini che hanno portato all'arresto dell'autore del vile gesto. Un criminale, così come lo ha definito l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha anche detto come questo episodio segna il livello di inciviltà che si può raggiungere se non si pone un argine a queste recrudescenze di violenza nei confronti dei camici. Ringrazio ancora una volta, ha detto Razza, le forze dell'ordine auspico un giudizio per direttissima ed una condanna esemplare per l'autore di questo gesto ignobile. Nell'ambito dell'operazione della Polizia di Stato è stata sicura, tre rumeni sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con l'accusa di ricettazione in concorso. I tre d'età compresa tra i 31 e i 44 anni viaggiavano a bordo di un furgone che si è aggirato in modo sospetto tra le abitazioni private. Dopo aver intimato l'alte, gli agenti hanno effettuato un controllo sul mezzo nel corso del quale è stata rinvenuta tra l'altro una borsa stracolma di monili di vario genere olologi da polso, spille, monete antiche, collane di perle e svariati oggetti in argento. Sul contenuto i fermati non hanno addotto giustificazioni plausibili. Tutta l'area furtiva è stata sottoposta a sequestro in attesa di individuare i legittimi proprietari. Cambiamo argomento, parliamo del Corfilac a proda in commissione, Lars. In audizione in commissione attività produttive presiedute dal parlamentare regionale Orazio Ragusa si è discusso ieri di consorzi di bonifiche Corfilac alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura e di bandiera dei sindacati tra cui anche Salvatore Terranova della Flai CGL di Ragusa. Questione consorzio, giovedì il consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa sbloccherà il fido di 2 milioni di euro per dare un sospiro di sollievo ai lavoratori che attendono la corrispondizione di 18 mensilità. Il consorzio ha un disavanzo di 11 milioni di euro e la cifra che sarà sbloccata è solo una minima parte. Ma il segretario Terranova che va molto cauto sullo sblocco del fido e preferisce attendere la riunione di giovedì e il direttore dei consorzi, Fabio Bizzini che invece parla già di una vittoria incassata hanno chiesto al governo maggiori garanzie per il futuro. La banca cura avendo il diritto di pretendere il rientro ha riconosciuto proprio nel comitato di ieri la possibilità di concedere ancora del tempo per rientrare dall'anticipazione bancaria entro il 31 dicembre concedendo appunto un fido di 2 milioni di euro. Disponibilità della banca disponibilità dei dipendenti a non continuare a pignorarsi a vicenda le somme possiamo avere ancora qualche mese di tempo per respirare e attendere degli interventi spero anche nel prossimo assestamento da parte della politica di questo si è discusso ieri in commissione affinché si possano risanare i consorsi di bonifica con un processo seppur lento previsto dalla stessa riforma. Il parlamentare Nello Di Pasquale ha chiesto la sospensione delle cartelle per i canoni idrici dei consorsi di bonifica l'assessore Bandiera ha chiarito che procederà alla sospensione quando si tratterà l'assestamento di bilancio il secondo punto trattato è il Corfilac per il quale la regione ha decurtato 400 mila euro stanziando di fatto somme risorie che non bastano neanche a svolgere le funzioni e a pagare le spettanze ai dipendenti l'assessore Bandiera ha assunto l'impegno di occuparsi della faccenda sempre l'occasione dell'assestamento di bilancio il governo anziché stanziare 1.360.000 euro ne ha previsto 1.155.000 per la parlamentare del Movimento 5 Stelle Stefania Campo si dovrà nuovamente intervenire in emergenza non si può andare avanti così si è discusso anche della panificazione in Sicilia l'assessore Mimo Turano ha spiegato che il nuovo testo del disegno di legge sarà presentato a settembre e cercherà di venire incontro a tutte le richieste manifestate il presidente della commissione attività produttiva Horacio Ragusa ha chiarito che vigilerà per far sì che la roadmap prospettata dall'assessore possa essere rispettata in pieno perché è fondamentale che adesso possano arrivare dei segnali univoci incontrovertibili da Palermo pubblicità tra poco e a proposito di commissioni a Lars arriva una bella notizia per l'aeroporto di Comiso approvato dalla quinta commissione a Lars il parere vincolante per il finanziamento delle somme necessarie alle nuove rotte per l'aeroporto di Comiso oltre 5 milioni di euro a darne notizie il parlamentare regionale del Partito Democratico l'onorevole Nello Di Pasquale che in una nota stampa ha sottolineato come le risorse destinate a Comiso saranno distribuite in un triennio 1.638.000 euro per il 2018 1.774.000 euro per il 2019 stessa cifra per il 2010 per un totale di 5.186.000 euro soddisfazione duplice dichiara Di Pasquale chi aggiunge già nella scorsa legislatura con un mio emendamento in commissione bilancio ero riuscito a far ammettere il finanziamento sia per l'aeroporto di Comiso che per Birgi la commissione di cui faccio parte prosegue Di Pasquale ha approvato il parere proprio di quella norma che finalmente è il passaggio definitivo dove il via libera della quinta commissione il gruppo del Movimento 5 Stelle all'Arsi invece chiederà assicurazione al governo regionale non si sbagli di nuovo la procedura dicono i deputati pentastellati il territorio sta pagando un prezzo altissimo i deputati del Movimento 5 Stelle chiariscono che con questo non intendono compromettere la programmazione dei vettori per la stagione 2019 dei due aeroporti ma che non si debba rischiare che nella fretta si agisca con superficialità commettendo gli stessi errori fatti nel bando precedente provocando una nuova paralisi i deputati del Movimento 5 Stelle all'Arsi hanno commentato così a margine dell'audizione dell'assessore regionale al turismo Sandro Pappalardo in quinta commissione presenti all'incontro Loredana Schillaci Giovanni Di Caro Lucio Di Paola Giampiero Trizzino più le due portavoci del Movimento 5 Stelle dei territori interessati ovvero Valentina Palmieri e Stefania Campo pur volendo accogliere tutte le soluzioni prospettatici dal governo spiegano i deputati il progetto presentato da Airgest ci è sembrato carente e troppo simile allo schema precedente sappiamo tutti bene continuano i portavoci all'Ars che il terra ha già bocciato il precedente apparto dei servizi e governo e maggioranza non sono riusciti a spiegare alla commissione come saranno superate le censure precedenti abbiamo inoltre chiesto i pareri legali a supporto del nuovo bando ma non abbiamo avuto ancora risposta per questo abbiamo assunto la decisione di astenerci bisogna fare le cose per bene concludono i pentastellati all'aeroporto di Catania arriva il Terminal C una nuova realtà per l'aeroporto che potrà contare adesso su questo Terminal C che consentirà alla struttura di prendere ancora di più il decollo 3.800 metri quadrati di superficie un transito giornaliero di circa 2.000 passeggeri questi alcuni dei numeri del nuovo Terminal C dell'aeroporto di Catania l'opera prevista dal piano triennale degli investimenti siglato fra Sac ed Enac nel maggio del 2017 è costata più di 734.000 euro che la società di gestione all'aeroporto di Catania ha procurato in autofinanziamento questo si chiama C perché tra i due c'è la vecchia Morandi che è il nostro più grosso investimento che dovremo andare a completare nei programmi già concordati con Enac entro il triennio questo è un passaggio importante perché riconsegniamo anche uno spazio che era stato adibito secondo me senza alcun senso ad altro e lo facciamo avendo un investimento molto grosso da parte di un vettore al momento vola qui soltanto i C-Jet ma evidentemente uno sforzo che ci ha consentito non soltanto di consegnare una struttura moderna e che può dare quindi un alleggerimento di spazio e una migliore qualità di servizi ma di avere un maggior numero anche di voli che possono essere serviti meglio con un servizio anche di imbarco a piedi e quindi con tempi di attesa minori e un servizio ripeto collettivamente migliore è entrato in funzione lo scorso 14 luglio dopo i collaudi e le certificazioni degli enti preposti il Terminal C è stato inaugurato ufficialmente oggi e consente la velocizzazione delle operazioni di imbarco favorendo il turnover del vettore e quindi incidendo in maniera determinante sulla puntualità vettore principale EasyJet l'aeroporto è riuscito a fare questa scelta estremamente importante che di solito viene fatta da aeroporti molto più grandi e cioè di dedicare un Terminal alle operazioni poi di una compagnia che ha sviluppato grande traffico e soprattutto che ha quest'anno cresce il 30% con ben 16 destinazioni adesso aspettiamo che entro il 2020 si apra la Ex Morandi e per la Sicilia è fondamentale che ci siano degli investimenti perché senza investimenti non c'è lavoro si concluderanno entro la metà del prossimo ottobre le manutenzioni del verde recentemente avviate dal CAS nel tratto autostradale in esercizio cassibile Rosolini sulla Siracusa Gelen entrambe le direzioni di marcia inclusi gli svincoli e pertinenze gli interventi saranno eseguiti sia di notte che di giorno per la manutenzione sarà necessario chiudere parzialmente la carreggiata in corrispondenza del cantiere vigge un limite di velocità fissato in 60 km orari e di vieto di sorpasso il limite scende a 40 km nelle rampe dello svincolo il primo settembre invece chiuderà il tratto della strada statale 115 in prossimità dello svincolo dente crocicchia per consentire lo svolgimento dell'ultima tranche di lavori siamo a Modica senza ulteriori intoppi all'inizio dell'autunno l'opera infrastrutturale sarà consegnata invece alla comunità andiamo a Ragusa dove il consiglio comunale continua a lavorare dopo l'elezione del presidente del suo vice ieri è tornato a riunirsi il consiglio comunale di Ragusa tra gli argomenti all'ordine del giorno la composizione delle commissioni consigliari alla riunione del civico consesso era presente la giunta al completo si inizia con le comunicazioni da parte dei consiglieri alcuni incentrati sulle criticità della raccolta differenziata se passa la nostra proposta cioè di andare a fare dei controlli crociati con l'utilizzo magari con l'aiuto della Camera di Commercio e con l'Enel di andare a scoprire altri 5.000 evasori quindi con un recupero di altri 10 milioni di euro che chiaramente vanno a ridurre la bolletta e la Tari per tutti gli altri che la pagano in maniera corretta l'altro abbiamo anche suggerito di attivare un numero un numero verde di trovare una soluzione tra il sindaco e la polizia municipale per andare a denunciare se un cittadino vede un altro cittadino che in maniera incivile va a buttare l'immondizia dove non è possibile farlo di andare a segnalare questa cosa per ciò che riguarda i contenitori condominali le problematiche principali che stiamo affrontando riguardano la collocazione in aree condominali che spesso non ci sono o se ci sono sono inadeguate altra problematica è individuato il posto c'è poi il problema di chi porta fuori questi contenitori quindi spesso nei condomini si è dovuto sostenere degli oneri aggiuntivi perché sono sorte delle cooperative che poi si occupano di questo servizio ma quello che francamente un po' più mi sorprende come scelta premesso che questo bando questo contratto è stato partorito dalla precedente amministrazione una delle finalità della raccolta differenziata in ambito condominiale è quella della tariffazione puntuale ma io mi chiedo come in ambito condominiale questo obiettivo sia perseguibile poi il sindaco Peppe Cassino e il suo intervento ha parlato della programmazione del suo mandato particolare attenzione alle problematiche ambientali risolvere le criticità della raccolta differenziata particolare attenzione anche alle politiche sportive e al piano particolareggiato per accelerare il recupero del centro storico un nuovo parcheggio dovrebbe essere realizzato a Dibla tra le priorità enunciate dal primo cittadino l'approvazione in tempi celeri del bilancio propedeutico per avviare l'attività dell'amministrazione è tutto grazie per averci scelto buon proseguimento